Ciao, sono Luis, sono uno dei camerari di Pasta Grannies. La mia pasta preferita? Beh, è qualcosa di più con il brodo. Capaletti, tortellini, lo chiamiamolo. Quanti anni aveva Albertina quando ha cominciato a fare la pasta? Dove aveva sette otto anni, quando eravamo in famiglia. È buonissimo! E se ho dovuto prendere una grannia, sono tutte fantastiche, ma credo che vorrei fare Ada, che abbiamo incontrato in Emilia-Romagna, perché lavorando, guardando questa bianca XXL era una cosa davvero, davvero, davvero impressionante e incredibile. Li assaggio, eh? Grazie!